Una riflessione sull'economia civile del territorio. Su questo focus assai vasto si sono confrontati professionisti ed esperti nell'ambito del convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia. Il meeting nella Sala Conveni dell'Ordine di Corso Risorgimento valido anche ai fini dell'assegnazione di crediti formativi professionali. Ha spaziato su temi quali sviluppo umano sostenibile, legislazione del terzo settore alla luce delle ultime evoluzioni nonché l'apporto dei commercialisti alla tutela e allo sviluppo del Made in Italy. Un'economia si può dire a mio avviso sostenibile quando consente a tutte le generazioni di soddisfare i propri bisogni, quando non avvantaggia una generazione a favore di altre. Questo significa una grande responsabilità da parte delle generazioni presenti che sono responsabili e quindi, ahimè, devono sostenere i costi per garantire alle generazioni future la soddisfazione dei propri bisogni. Io anche garantendo che le generazioni future sperimentino una minore povertà, pari opportunità, tutti obiettivi che nei sustainable development goals delle Nazioni Unite sono ben chiari e ben definiti. La novità della riforma, il codice del terzo settore, dà la possibilità anche agli enti non commerciali di svolgere attività commerciale con dei limiti, non può essere prevalente rispetto all'attività non commerciale, perché il legislatore ha valutato che un ente non commerciale non può vivere di quote associative, di donazioni che si riducono sempre di più, di liberalità, ha bisogno di avere degli utili che può ricavare da un'attività anche commerciale, purché non sia prevalente rispetto a quella non commerciale, al fine solidaristico e utilizzando queste risorse ricavate dall'attività commerciale non per distribuire ai soci, ma per riempiegarle nell'attività che promuove. Noi stiamo svolgendo un'attività nel formare dei commercialisti che abbiano una conoscenza nei vari settori del Made in Italy, quindi parliamo di agroalimentare, parliamo di moda, parliamo di turismo, di cultura, di meccanica, tutto ciò che noi siamo bravi in tutto il mondo a conoscere il marchio del brand Made in Italy e questo lo stiamo facendo con un'attività di eventi su tutti i territori, una mappatura dei commercialisti che si occupano di questi settori e a breve parterà anche una formazione di alta professionalità per una conoscenza delle varie discipline che riguardano poi il Made in Italy. Grazie. 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 Grazie.